La parola di mister oggi era giocare per vincere. Giochiamo con una squadra molto difficile che non molla mai. Noi è essenziale di non prendere ma cercare di fare gol. La forza è venire proprio di gruppo e stiamo lavorando per migliorare. La parola di mister è sempre che lavoriamo per migliorare giorno a giorno. Spero che miglioriamo presto. Esiste un momento della partita in cui la squadra soffre. Quando la squadra soffre bisogna soffrire tutti. È una cosa che non parte di me ma parte di tutti noi. Per quello che ho detto la prima cosa è il gruppo. Dobbiamo stare compatte e luttiamo per ogni partita. Per noi oggi per vincere era molto importante per noi. Per vincere. Per quello che vincere per noi, per i tifosi, per la classifica e per il proprio mistero nostro. che non stai qua ma stai qua. Perché è scoperto stare con noi, parlare con noi. E vincere era una cosa più importante di tutti. Lui stai con noi. Anche noi stiamo con lui sempre. Io ti dico mister che noi vogliamo vedere presto gli allenamenti. Allora. Allora.